Comunicazione tridimensionale Inballi S.P.A. è un'azienda che ha sviluppato dalle forme del proprio prodotto una filosofia aziendale innovativa e unica per la produzione di imballi industriali. La formula, solo apparentemente semplice, di 100% di tecnica più 100% di creatività, consente di arrivare ad un risultato sempre eccellente, semplice e funzionale. L'agilità di struttura, combinata alla grande capacità produttiva, fa sì che l'azienda sia in grado di soddisfare la clientela di ogni tipo, dai pezzi singoli alla produzione su bassa scala, dall'astuccio più semplice all'espositore più complesso. Lo staff tecnico giovane, dalla mentalità aperta e dinamica, integra le capacità gestionali e imprenditoriali di chi si trova sul mercato da oltre 30 anni. Il progetto grafico dell'imballo, studiato dal cliente o dal team di progettazione aziendale, viene ottimizzato per la stampa grazie ad un'elaborazione accurata di ingombro foglio, misura e spessore, con test preventivi specifici di peso e resistenza. Le lastre di stampa seguono una preparazione automatica, veloce e affidabile, sfruttando la migliore tecnologia presente sul mercato, che ritroviamo anche nel reparto di stampa. Attrezzato con macchinari avanzati e costantemente rinnovati, per le operazioni di stampa e multicromia fino a 7 colori, verniciatura lucida e opaca, stampa su materiali speciali, come i laminati. Ed è in questo delicato segmento di lavorazione, che il personale altamente qualificato, esegue con l'aiuto di apposite attrezzature, regolari controlli qualitativi sul prodotto. Anche nella sezione di accoppiatura e ondulatura dei materiali, la continua attenzione alle innovazioni tecnologiche e ai nuovi prodotti, consente una produzione sempre al massimo delle possibilità e della qualità. La velocità di esecuzione è uno dei plus aziendali, così come lo sviluppo e la realizzazione di ogni progetto, in coordinamento costante con le idee del cliente. Le varietà di forme, chiusure e incollaggi si estendono dalle varianti classiche alle nuove sperimentazioni, che seguono ed anticipano l'evoluzione del mercato, integrate da testa curati sul prodotto finito. La filosofia di ottimizzazione dell'azienda ha risvolti che coinvolgono il prodotto dalla progettazione al recupero degli scarti di produzione, passando per la gestione automatizzata dell'imballaggio e a quella dello stivaggio del prodotto finito. Il magazzino MateriaPrima, conservando sia fogli pretagliati, sia a carta e cartone in bobina, permette all'azienda di rispondere in tempi rapidi alle richieste del cliente per qualsiasi formato di foto. Fiora all'occhiello dell'azienda, il magazzino prodotto finito, dell'estensione di 14.000 m2. Dotato di scaffalature mobili e di tracciatura elettronica del prodotto, il magazzino virtuale e automatizzato viene gestito con snellezza, velocità e precisione. Il cliente può così stoccare ordini di importante consistenza direttamente in azienda e effettuare ritiri parcellizzati secondo le proprie necessità. Il lavoro di ottimizzazione e automatizzazione che imballi SPA ha compiuto su se stessa è una garanzia per il cliente di velocità, qualità e resa. Comunicazione tridimensionale La funzione tristиковale Grazie a tutti! Grazie a tutti.